Il Sud intanto esce totalmente dalla discussione pubblica, non si poteva anche più parlare, neanche nella retorica politica non c'era più il tema mezzogiorno, meridione, eccetera, eccetera, vengono attutite ogni speranza, ogni stimolo di riscossa, di cambiamento delle condizioni del Sud, il loro meccanismo inaugura un sistema, diciamo, di classi dirigenti fatti per investitura, cioè alla fine era sempre Arco, quindi c'è l'imperatore, c'è il feudatario, c'è il vassale, il valvasino, e sei lì in quanto non rompi le scatole, ti portano i soldi, che ne so, per pagare le multe, la quota di latte su, tu stai zitto, che va bene così, e quindi con un danno enorme perché si sono distrutte tutte le politiche, è giusto o sbagliato che ci fosse, non ha diventato neanche una, c'è stata anche una rapina di risorse, soprattutto c'è stato uno sviluppo del tema, si è persa l'idea di reciprocità e di unità di questo Paese, e guardate che ha marciato molto questa cosa qui, e adesso noi dobbiamo assolutamente riprendere, cioè a partire dai dati di fatto che adesso sono conclamati, perché ancora adesso Maroni, il ministro di Milano dice prima al nord, ma dico ma guarda, ti ho già detto nei commissi, che per il partito leghista finlandese che ha il 19%, te sei un terrone, non ti darà mai un euro, perché c'è sempre un altro nord, basta con queste stupidaggini, cominciamo a leggere la realtà, e la realtà è la reciprocità, ma lo si vede nelle statistiche, quando, abbiamo detto mille volte, quando il sud si avvicina un po' più al nord, il nord si avvicina un po' più all'Europa, quando c'è la dinamica di regressione italiana c'è la dinamica di forbici che si aprono, questo è ovvio, è ovvio perché tu potresti mettere anche le frontiere che vuoi, ma se sei ormai nella libera circolazione di merci, capitali e cittadini, alla fine sei lì, sei in questo Paese qua, e le forze potenziali, le risorse potenziali sono del mezzogiorno, e quindi noi abbiamo bisogno di riprendere questo tema qui del sud in una chiave nazionale, chiave di reciprocità.